Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Gio. Siamo su Final Fantasy VII Ever Crisis ed effettivamente era da un bel po' di tempo che non parlavamo di Ever Crisis. È stato un periodo un po' più spento che però adesso fortunatamente si riaccende grazie alla celebrazione del mezzo anniversario. Quindi abbiamo una nuova campagna in corso che andremo ovviamente a spulciare e a vedere insieme come sempre ma al tempo stesso abbiamo anche l'aggiornamento della nuova versione di gioco che porta ovviamente alcune novità. Senza considerare il fatto che è presente a partire anche da oggi un nuovo evento e anche un nuovo banner speciale. Quindi andiamo subito a fiondarci e leggere tutte le notizie che non abbiamo commentato ovviamente in questo periodo di tempo. Partiamo con ovviamente la schedule della campagna di marzo per quanto riguarda le coop. Quindi come potete notare abbiamo anzi questo in generale tutte le campagne di marzo che avremo presente all'interno del gioco. Partendo ovviamente dallo ciocobo expedition quindi dalle spedizioni ciocobo partendo ovviamente da inizio mese quindi dal 4 marzo in realtà alle 3 di notte fino alle 11. 15 fino all'11 marzo sempre anzi in questo caso alle 4 del mattino praticamente 6.59 quindi 4 del mattino dove durante questo periodo avremo il rate quindi diciamo la percentuale di materiale droppato incrementato del 20% e anche l'ammontare di esperienza del giocatore associato al ciocobo ovviamente sarà aumentata sempre del 20% quindi anzi in questo caso in generale abbiamo anche l'esperienza del giocatore guadagnato nel weapon enhancement quest e il character growth quindi neanche collegati al ciocobo ma collegati proprio alle specifiche missioni di potenziamento armi e crescita invece del personaggio. Successivamente invece una volta finita la campagna di ciocobo parte la premium boost campaign dove tutti gli oggetti che si otterranno dalle premium quest verranno incrementati del 30% quindi anche questa è un'ottima occasione per le premium quest. Successivamente finita la premium abbiamo la materia boost campaign dove verrà aumentato il successo di potenziamento in critico diciamo delle materie del 20% e anche l'ammontare delle ricompense ottenute nelle quest di sintesi incrementate del 20% poi successivamente avremo la campagna per il potenziamento delle armi quindi il great success rate viene incrementato del 20% e l'ammontare di ricompense ottenute sempre nelle quest di potenziamento di potenziamento armi verrà incrementato del 30% in questo caso. Andiamo ancora avanti con la manutenzione che è quella che è stata fatta praticamente questa notte con l'update alla versione 1.7.0 quindi nuova versione di gioco che porterà ovviamente delle novità porterà ovviamente la campagna del mezzo anniversario e gli eventi del mezzo anniversario che sono quelli che abbiamo per l'appunto ricevuto oggi che sono il Knights of Judgment Project Zero Remnant e ovviamente le daily pull quindi le daily gratuite in questo caso che ritornano di mezzo anniversario saranno praticamente presenti. Nuovo banner che vedrà come protagonisti Cloud e Glenn il titolo Limit Break Draw non lasciatevi trarre l'inganno non si tratta di pullare limit anche perché fortunatamente era entrato in circolazione la voce che si potessero pullare delle limit break e quando è uscito ovviamente il titolo in questo caso Limit Break Draw un pochettino anche io mi sono un attimo ridimensionato perché ho detto no aspetta finché si pullano le armi va bene ma anche le limit mi sembra un po' esagerato invece fortunatamente parlando il termine Limit Break Draw è semplicemente un termine per spiegare che comunque ci sono a disposizione delle armi particolari che andremo a vedere poi successivamente. Queste armi verranno comunque considerate come delle armi crossover quindi bisogna fare attenzione quando si va a pullare in un banner del genere infatti come potete notare queste armi a dedizione limitata praticamente non saranno incluse ai corrispettivi ticket draw quindi ai pull con i ticket oppure al metodo di scambio corrente che è presente ovviamente durante cioè che è presente all'interno del gioco quindi bisognerà vedere effettivamente come andare a pullare su questo banner successivamente abbiamo degli effetti addizionali per quanto riguardano le stamp card quindi avremo a quanto pare questo poi lo vedremo meglio nel dettaglio oggi stesso praticamente avremo un'animazione particolare per quanto riguarda anche l'ottenimento dei vari stamp infatti avremo delle animazioni con un ciocobo classico ovvero piccole aspettative di ricevere tanti stamp un ciocobo rosso che mi da media speranza di poter ottenere un buon numero di stamp black ciocobo che ti danno tanti stamp in una botta sola e ciocobo con kitesit che invece è una grande probabilità di ottenere tanti stamp ora vedremo poi nel dettaglio come funzioneranno diciamo queste animazioni di summon anche perché io nel banner vi dico già che comunque pullerò e vi spiegherò anche poi il perché successivamente verrà aggiunto questa è una cosa interessantissima che vi consentirà comunque di diciamo levarvi il pensiero tra virgolette più in fretta rispetto al normale perché verrà aggiunto praticamente uno stamina boost quando effettuerete le missioni infatti adesso da questo momento in poi si potrà utilizzare la stamina non solo per 3 quindi quando si vanno a fare le quest non ci sarà più il tasto per 3 nelle vostre missioni ma addirittura anche 6 o 9 volte quindi è come se voi praticamente faceste quello stage già direttamente 6 o 9 volte e quindi utilizzare molta più stamina e quindi nell'eventualità togliervela tutta subito e poi aspettare che si ricarichi facendo ovviamente altre cose sono state inserite anche nuove zone di esplorazione del ciocobo e nuovi ciocobo infatti sono state aggiunte le sezioni midgar 4, 5 e 6 e inoltre sono stati aggiunti anche i ciocobo di rank B quindi adesso la classe massima di ciocobo ottenibili all'interno della nostra fattoria ciocobo è la B ovviamente per sbloccare le condizioni bisogna ovviamente fare delle cose specifiche anche per esplorare queste nuove zone di midgar quindi avremo la possibilità di gestire bene poi anche il setup e tutto quello che dobbiamo fare poi ovviamente viene aggiunta una nuova icona dell'applicazione e poi piccoli miglioramenti della quality of life che ovviamente sono presenti all'interno del gioco non ci sono i rank B più dei ciocobo quindi mi raccomando non andate alla ricerca dei B più la classe massima per il momento sarà B solo B senza il plus e ora invece passiamo a tutto quello che è nuovo andiamo a tutto quello che è nuovo abbiamo praticamente un aggiustamento per quanto riguarda le co-op medal e anche i limiti di medaglie che si possono ottenere dalle co-op medal praticamente avremo degli oggetti nuovi che potremo scambiare all'interno dello shop chiamiamolo così delle co-op avremo addirittura i mithril ore che costeranno 100 medaglie e potranno essere scambiati fino a 10 quindi in totale 1000 gem cioè 1000 gettoni per ottenere dei mithril ore i genome megapod x che saranno comunque sempre 10 i microcube che saranno 10 però costeranno 20 da questo momento in poi e poi ci saranno praticamente tutti gli altri oggetti della sintesi per quanto riguarda le materie che sono stati modificati da ottenibili mensilmente a settimanalmente quindi si potranno ottenere praticamente più spesso quindi per chi ovviamente ne ha necessità potrà accumularne molti molti di più inoltre il limite delle medaglie co-op da questo momento in poi viene portato da 2000 a 5000 mentre invece la possessione di token in generale delle co-op come limite viene portato da 5000 a 9999 quindi sarà possibile praticamente non limitarsi più nel fare le co-op e farne tante 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 proprio per ottenere anche i nuovi oggetti presenti all'interno del gioco evento del mezzo anniversario che sicuramente sarà la prima parte dell'evento del mezzo anniversario anche perché questo evento dura praticamente un mese quindi sono sicuro che a metà ci sarà la possibilità di poter vedere sicuramente un nuovo banner e comunque anche delle nuove meccaniche presenti all'interno del gioco dove il nome dell'evento in questo caso è The Knights of Judgment Project Zero Remnant infatti praticamente la storia o comunque la trama che principalmente coinvolge questo evento è che il cavaliere del giudizio in questo caso che praticamente sta viaggiando ed è diciamo in mezzo praticamente al tempo e allo spazio sta cercando un avversario valoroso da poter affrontare e ovviamente siamo stati scelti noi come i suoi avversari e quindi dobbiamo prepararci alla battaglia come si fa a giocare ovviamente questo evento? è un classico evento dove bisognerà sconfiggere il boss ottenere gli oggetti che verranno scambiati successivamente nello shop quindi come sempre non c'è un meccanismo particolare di evento ricordiamoci che siamo ovviamente in un gacha quindi non ci aspettiamo chissà che cosa ovviamente come meccaniche particolari però ovviamente ogni boss o comunque ogni nemico avrà le sue piccole peculiarità in questo caso avremo la possibilità di ottenere degli oggetti speciali come il Charger Horse Show e la Golden Wheel che ovviamente potranno essere ottenuti tramite lo scambio all'interno dello shop infatti in questo caso potremo ottenere i Chargers Horse Show e le Golden Wheel proprio per scambiarle poi successivamente per oggetti oggetti che in questo caso come potete notare possono portarci ad ottenere la Chariot Wheel per Yuffie che rappresenta la prima arma free to play per il personaggio di Yuffie quindi avremo la possibilità di ottenere anche ticket esclusivi per Yuffie anzi avremo la possibilità di ottenere weapon parts in questo caso specifiche per Yuffie i ticket 4 stelle e più che sono i grandissimi scam ticket della storia e poi ovviamente weapon parts di personaggi specifici quindi come in un qualsiasi evento avremo al solito la possibilità di ottenere ticket la possibilità di ottenere weapon parts e un'arma free to play gratuita andiamo avanti perché poi ovviamente abbiamo anche le ricompense del Day of Seven Gift che comunque vi ricordo come sempre che ogni giorno 7 di tutti i mesi avremo la possibilità di ottenere 1000 gem andiamo invece sulla campagna worldwide quindi la campagna che si è tenuta su Twitter e che comunque ha permesso ai giocatori di ottenere delle ricompense in base ai retweet, ai mi piace e ovviamente commenti, condivisioni eccetera eccetera un po' come funziona in questo tipo di giochi dove praticamente abbiamo la possibilità di ottenere come prima ricompensa i 100.000 clear dell'evento Stamina Tonic 300.000 clear 1.000 cristalli e 7.777.777 il rilascio del capitolo epilogo quindi tutti i giocatori che parteciperanno ovviamente al completamento dell'evento daranno il contributo per sbloccare ovviamente questi premi andiamo invece nel dettaglio nel vedere come funziona questo evento e che cosa ci propone questo evento praticamente ecco qua ci permette di ottenere ovviamente gli oggetti come detto prima per poterli scambiare e in questo caso qui abbiamo l'arma di Yuffie che in questo caso ci consente di ottenere l'acciario to heal che è un'arma acqua che sblocca l'attacco water a surge e che busta l'attacco magico quindi potrebbe essere comunque una buona arma per uno pseudo dps acqua che ovviamente vuole avere dell'attacco magico però credo che comunque qui avremo un refined con boost magic attack e non so, non credo avremo il boost per quanto riguarda comunque acqua eccetera eccetera ma sarà probabilmente difesa magica o una roba del genere quindi classiche refined abilities da army free to play successivamente il boss ecco come avevo già accennato anche sul gruppo telegram che vi ricordo appunto potete seguire chiedendomi ovviamente nei commenti il gruppo che ve lo segnalo ve lo posto oppure andare sulla chat di twitch e premere punto esclamativo community per avere ovviamente tutti i link il boss ovviamente che comunque prende ispirazione da Eligor uno dei boss presenti all'interno di Final Fantasy 7 remake è nemico speciale invece nella versione originale presente all'interno del cimitero dei treni del settore 7 è debole comunque al ghiaccio in questo caso hanno messo una doppia debolezza elementale quindi sia acqua che ghiaccio che sinceramente mi fa anche un po' sorridere un mezzo sorriso riesce comunque a farmelo uscire perché comunque possiedo Zack con l'arma che può abbassare la resistenza all'acqua Cloud che comunque sia ha la sua maritim sword ma la vera novità la vedremo tra poco grazie al banner che è uscito con questo evento e ovviamente attacchi raccomandati gli attacchi raccomandati quelli fisici i sigilli circolare e triangolare e gli elementi acqua e ghiaccio ovviamente dovremo in un qualche modo sconfiggere il boss questi sono dei piccoli suggerimenti per quello che dobbiamo fare all'interno della battaglia ma ovviamente ovviamente noi poi lo vedremo in azione e quindi riusciremo in un modo o nell'altro qualora ci fossero anche le difficoltà X o comunque le difficoltà successivamente Crash eccetera eccetera avremo modo di poterne parlare insieme abbiamo ovviamente anche in questo caso i reward bonus dati dai limit break delle armi e dai costumi nuovi di questo banner che come detto in precedenza vedono come protagonisti Cloud e Glenn quindi ricordatevi che appunto il banner sarà con Cloud e Glenn e poi successivamente abbiamo il nuovo banner con nuovi equipaggiamenti per entrambi i personaggi quindi skin uguale per entrambi quindi dello stesso tema con armi praticamente uguali con lo stesso tema per i personaggi che io trovo assolutamente fighissime dal punto di vista estetico ma la cosa più importante sarà vedere poi come sono combinati questi banner e ne parleremo ovviamente in un ban cioè ne parleremo nel video a parte di analisi banner e vi dirò tutti i motivi perché è un buon banner perché io pullerò e soprattutto vi farò un piccolo ragionamento che adesso per chi ancora era scettico prende ancora più forma campagna del mezzo anniversario campagna del mezzo anniversario ufficialmente annunciata dove avremo praticamente giornalmente 10 free pull per diciamo 280 draws quindi praticamente un mese di free pull perché avremo ogni giorno 10 pull portatela a 28 giorni 280 quindi abbiamo praticamente un mese di daily pull dove praticamente ogni Wednesday quindi ogni mercoledì se non mi ricordo si Monday, Tuesday, Wednesday si ogni mercoledì praticamente io non me le ricordo a volte entro in confusione dove ogni mercoledì praticamente avremo le apparizioni delle 5 stelle addirittura raddoppiate quindi molto 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 comodo ovviamente questo sarà un banner che durerà praticamente tutto il mese e ovviamente abbiamo anche la campagna dei mezzo anniversario con i login bonus dove durante il periodo dei login bonus otterremo il wallpaper di Cloud il cyberstyle quindi non otterremo il wallpaper tramite gli overboost della sua arma ma tramite login è un totale di 3000 cristalli blue avremo anche comunque il avremo anche i login bonus per quanto riguarda poi successivamente i potenziamenti delle armi perché bisogna loggare in 4 giorni ogni settimana per ricevere almeno un totale di 70 mitri lore quindi veramente tanta bella robetta il gift che invece ci viene offerto dal gioco per celebrare il mezzo anniversario sono 700 gemme più ovviamente loggare ogni Wednesday anzi ci danno praticamente 700 gemme ogni mercoledì per avere un totale praticamente di 4900 gemme tra i vari login quindi avremo la possibilità di ottenere diverse gemme e poi durante questo periodo tutta l'esperienza che verrà guadagnata da Cloud e da Glenn verrà incrementata del 200% successivamente abbiamo i new cover campaign dove in questo periodo tutti i player al di sotto del livello 30 giocatore avranno la possibilità di incrementare la loro esperienza del 400% quindi diciamo per tutti i giocatori nuovi che si stanno introducendo al gioco e che hanno comunque una buona possibilità di cominciare adesso grazie a tutte le free pool e tutte ovviamente le robe che si possono ottenere dai login o dal gioco diciamo partecipando piano piano e livellando soprattutto piano piano anche se col 400% si può avere un grandissimo boost in avanti si potrebbero tranquillamente raggiungere i risultati di un veterano nel giro di qualche settimana, qualche mese successivamente avremo anche i banner con 5 stelle garantita dal volume 1 al volume 3 quindi avremo 3 banner diversi dove si potranno ottenere in totale 3 o più 5 stelle perché per ogni banner avremo almeno una 5 stelle garantita e in tutti questi banner sono incluse tutte le armi di nuova generazione quindi diciamo tutte le nuove armi delle nuove batch tranne ovviamente quella che è uscita adesso quindi abbastanza interessante andiamo ancora avanti con ovviamente questi non credo che vi interessino più di tanto ma ci sono gli sconti ovviamente per quanto riguarda i pacchetti di gemme che si possono acquistare all'interno del gioco mentre invece ciò di cui dobbiamo parlare è assolutamente il banner così in linea generale poi approfondiremo il discorso con l'altro video banner di Glenn e di Cloud che è praticamente il pezzo forte di questa prima parte dell'evento dove praticamente abbiamo la nuova arma di Cloud la Stream Saber con lo sblocco dell'abilità Freezing Stream e la nuova arma di Glenn la Stream Slasher che sblocca Flooding Stream per quanto riguarda il suo attacco e come potete notare il primo ovvero Cloud possiede un attacco di tipo ghiaccio fisico il secondo un tipo di attacco acqua fisico proprio perché il nostro boss è debole a questi elementi e non solo come avevo già detto come avevo già predetto Cloud riceve una nuova skin con il Frost Blade Arcanum ghiaccio quindi diventa praticamente l'Arcanum ghiaccio fisico che volevo io e Glenn invece diventa il Water Blade Arcanum quindi per la prima volta abbiamo anche l'Arcanum di tipo acqua che ancora non avevamo perché Cloud Marina Retto vi ricordo è Water Mastery quindi non Water Arcanum e anche praticamente ovviamente boost attacco fisico ma c'è una grandissima novità perché questo boost di attacco fisico che viene donato dalle armi ovviamente rispettive di Glenn e di Cloud non è singolo ma è un boost di attacco fisico a tutti gli alleati quindi abbiamo una nuova Refined Abilities che è stata inserita all'interno del gioco ovvero il potenziare l'attacco fisico a tutti gli alleati Cloud e Glenn con queste armi potenziano tutti già direttamente come Refined quindi senza bisogno di buff esterni o di skill esterne loro già grazie alle passive potenziano gli alleati quindi tanta tanta bella robetta e poi ovviamente come detto in precedenza in base ai vari over boost e costumi dei personaggi avremo un drop rate incrementato durante ovviamente l'evento corrente detto ciò ovviamente non aggiungo altro perché del banner ne parlerò in un diciamo nel video a parte dove vi analizzerò il banner e vi dirò ovviamente i miei pensieri su questo banner e se ne vale la pena pullare e poi qui vabbè diciamo ci sono stati degli diciamo dei problemi con l'acquisto dei pacchetti dell'anniversario però vabbè diciamo niente che non si risolva e che permetterà ai giocatori di poter giocare con calma detto ciò non c'è altro da aggiungere questo era tutto quello che dobbiamo sapere della nuova versione di gioco e ovviamente della prima parte perché fondamentalmente è la prima parte della campagna del mezzo anniversario spero che il video possa esservi stato utile fatemi sapere ovviamente cosa ne pensate al solito e noi come sempre ci becchiamo alla prossima bye bye